Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 sino alle 15 per eleggere il nuovo presidente della regione Puglia e rinnovare il consiglio regionale. Sono otto gli aspiranti alla carica di governatore. Michele Emiliano punta al secondo mandato alla guida di una coalizione di centro-sinistra composta da 15 liste. Il centrodestra unito risponde con cinque liste a sostegno di Raffaele Fitto, già governatore della Puglia dal 2000 al 2005. Il Movimento 5 Stelle ripropone la candidatura di Antonella Laricchia, già protagonista alle elezioni regionali di 5 anni fa, quando raccolse il 18,4% delle preferenze secondo miglior risultato dopo quello di Emiliano. In questa occasione sarà sostenuta anche da una lista civica. Sarà della partita Ivan Scalfarotto alla guida di una coalizione composta da tre liste, espressione della corrente renziana che ha rifiutato di aderire al progetto di Michele Emiliano. Chiudono il cerchio delle candidature e altri quattro aspiranti governatori. Si tratta di Mario Conca, Nicola Cesaria, Pierfranco Bruni e Andrea D'Agosto, sostenuti tutti da una lista a testa. Nella circoscrizione della BAT correranno per la carica di consigliere regionale 125 candidati.